Ciao ragazze, è mercoledì, mercoledì ho fatto mezza giornata e sono riuscita anche a farmi mezza, un'ora di corsa perché qui a Savona non c'è sole, è una giornata piuttosto nuvolosa non credo che piova ad ogni modo la matitina codato su tutte le labbra è la 24 ore numero 11 di Deborah con il lucida labbra barra rossetto di Essence 07 Sparking Miracle eccolo qua, molto molto leggero ve lo faccio vedere, ho fatto anche la riga della matita aspettate che c'è luce, ok a me piace molto molto questo lucida labbra barra rossetto però sì, ho l'abitudine di colorare tutte le labbra con la matita perché io punto alla durata del colore non tanto al colore in sé però cerco sempre di avvicinarmi molto al rossetto o al lucida labbra che metto è difficile che io metta solo un lucida labbra così lo metto, metto giusto un burro cacao leggermente colorato quando vado a correre per proteggere e dare lievemente un po' di colore alle labbra e basta benissimo, io adesso mi infilo un paio di jeans le scarpe e vado in centro che mi aspetta una mia amica ci facciamo un giretto e intanto mi dice che cosa desidera dell'Avon io stasera faccio l'ordine perché mi fanno aspettare troppo e ho telefonato all'Avon per sapere appunto come mai mi dicono che il lenzuolo è pronto il 23 la settimana dopo mi dicono che è pronto il 27 e la signorina dall'altra parte che non è stata neanche tanto simpatica mi ha detto che se c'è scritto 27 è 27 e io gli ho detto ma se c'era scritto 23 era 23 e adesso mi dice se adesso c'è scritto 27 ah ok gli ho detto va bene va bene noi oggi ci spruzziamo Lady Million e proseguiamo questo mercoledì ciao ragazze un bacione